conoscete da molto gli arredamenti fiorentini oggi siamo con voi per mostrarvi come la nostra attività abbia varcato i conflumi della nostra Firenze tra i tanti abbiamo realizzato questi arredamenti che vanno dalle ville fiorentine alla questura di Firenze dalla presidenza del consiglio dei ministri a Villa Doria Panfili a Roma dall'aula consigliare del comune di Taormina alla prefettura di Belluno vi aspettiamo per offrirvi soluzioni arredative nel rispetto della grande tradizione artigiana arredamenti fiorentini a Firenze via baracca 132a arrivederci